Buongiorno e benvenuti alla resegna stampa di oggi, oggi è venerdì 21 febbraio e questa è Occhio ai giornali, la rassegna stampa del mattino che inizia alle 7 in diretta sul canale 17 di Fano TV, visibile in tutta la regione Marche e anche nei device, ovvero nei cellulari attraverso un smartphone, attraverso le nostre piattaforme che trasmettono in diretta e on demand questa rassegna stampa. In diretta siamo su Facebook, siamo su YouTube e siamo anche sul sito internet occhianotizia.it, dunque c'è modo e come vedete in ogni posto per poter vedere ed essere informati di prima mattina su ciò che scrivono i quotidiani e anche sul santo del giorno e sulle previsioni del tempo. Il santo di oggi è un santo che tra l'altro ha radici anche qui nel nostro territorio, parliamo di San Pier Damiani oggi che è stato cardinale, vescovo di Ostia e dottore della Chiesa, entrato nell'eremo di Fonte Avellana, promosse con forza la disciplina regolare in tempi difficili per favorire la riforma della Chiesa, richiamò con fermezza i monaci alla santità. Il sole è già sorto alle 6.58 e tramonterà questo pomeriggio alle 17.45 e vediamo il tempo. Secondo il bollettino della protezione civile delle Marche per oggi avremo un cielo sereno poco nuvoloso con temperature in diminuzione soprattutto quelle della notte che porteranno gelate nei fondovalle, specie quelli interni anche al primo mattino. Per quanto riguarda la giornata di domani, sabato 22, siamo nel cuore del carnevale, questa è la cucina anche con iniziativa all'aperto, avremo domani sabato temperature in lieve aumento nei valori minimi con cielo sereno poco nuvoloso, come sempre attenzione alle gelate notturne, mentre domenica non ci sono nemmeno le gelate notturne perché le temperature sono in aumento anche nei valori massimi, quindi un'altra giornata quasi primaverile se non del tutto primaverile con cielo sereno e bello su tutta la regione. Qualche instabilità probabilmente nei primi giorni della prossima settimana, ma di questo ne parleremo nelle prossime ore. Intanto i giornali oggi scrivono, sia il Corriere Adriatico, il Giornale delle Marche che il resto del Carlino, scrivono dell'arrivo a Pesaro ieri del capitano, ovvero del segretario della Lega, Matteo Salvini, ma anche di Santori che invece è responsabile delle Sardine che ieri ha partecipato al secondo incontro con i pesaresi, due piazze dunque molto vicine che hanno visto la partecipazione di tante persone. Andremo a vedere quindi quello che scrivono i giornali su questo argomento, così come quello che scrivono a proposito delle elezioni amministrative. Sapete, il PD sta ancora discutendo sulla questione Ceriscioli, c'è una questione romana, insomma di questo e di altro sui giornali di questa mattina. Cominciamo dalla prima pagina del resto del carriere di Pesaro che mette proprio in contraposizione in evidenza le due piazze, la guerra delle piazze. Il leader della Lega e le Sardine, che duello, erano circa 2.500 ad ascoltare il capitano, i marchigiani, ha detto Salvini, ci chiedono il cambiamento, in 400 con Mattia Santori. Aspettiamo, ha detto il nome del centro-sinistra, anche un civico per noi va bene. Questi chiaramente sono i numeri dati dagli organizzatori, poi per la questura, come sempre avviene invece, i numeri sono diversi e un po' più risicati. Salvini, il PD lo mandiamo a casa, lancia la sfida per il regionale, fa traballare la candidatura di Acquaroli. Prima il programma, poi vedremo i candidati. Il Corriere Adriatico, cacciata dai Cinque Stelle, ma presento subito ricorso, l'annuncio dell'assessore Frenquellucci, neanche aperta la mia tesi difensiva. Era nell'aria, il Movimento Cinque Stelle ha espulso Francesca Frenquellucci, il sindaco Matteo Ricci però la difende, resta in giunta ovviamente, lei prepara il ricorso. Mentre a centropagina la fotografia è per questa ex-olgettina che è stata chiamata in aula da imputata, accusata di estorsione e danni di anziani insieme ad altri complici, ha fatto firmare, firmando dei cataloghi, queste persone, soprattutto anziane, si ritrovavano con prodotti da pagare, di conseguenza faceva firmare in modo illegale questi contratti. Allora adesso invece andiamo ad aprire le pagine, lo facciamo per accelerare un po', due alla volta. Allora questo è il Corriere Adriatico, resto fino all'ultimo selfie, vi voglio accontentare tutti, ha detto Matteo Salvini a un certo punto, al termine, quando si è fermato con tanta gente per appunto farsi selfie. Salvini galvanizza una piazza del popolo gremita, ma prima del comizio riprende e posta la sua folla in attesa. Dal palco accoglie i lavoratori del mercatone e accenna alle sardine. Esistono solo perché ce l'hanno con me. L'altra pagina, Salvini tiene tutto in billico, il candidato, vediamo qual è il profilo migliore, show a Pesaro, niente giudizi per ora, ci prendiamo del tempo e quindi bisognerà ancora aspettare. Andiamo a vedere cosa scrive il resto del Carlino. Invece ecco qua le due pagine, in 2500 ai piedi di Salvini, qui qualcuno va a casa, il leader della Lega, le marche ci chiedono il cambiamento, poi il freno alla corsa di Acquaroli in Regione. Prima dobbiamo fare il progetto e la squadra, il candidato arriverà quando deve arrivare. Ovunque vinciamo, la prima cosa è aiutare i negozi a riaprire. E poi l'altra pagina, una piazza forte, allergica ai selfie, qui invece siamo sulla piazza vicina a quella del popolo, dove si sono radunate le sardine. A poche centinaia di metri, dunque l'altra manifestazione, c'è il leader del movimento, Mattia Santori, da qui ha detto riparte un nuovo modo di fare politica. Poi risuona la musica, in strada anche nonni e bambini. La campagna elettorale si giocherà sul lavoro, terremoto e sanità. E intanto l'ultima tappa Salvini l'ha fatta a cena, all'hotel Flaminio, con 600 simpatizzanti, 600 persone, ai quali ha detto il futuro è vostro. E ancora dai quotidiani, dal Corriere Adriatico, questa è la pagina che si riferisce al movimento delle sardine, Santori, la piazza d'Umbivio, forse la stagione è finita, striscioni e musica, il presidio delle sardine, un accenno anche alla crisi della Berloni. Questa è la fotografia dell'arrivo di Mattia Santori, ieri pomeriggio intorno alle 18, in piazzale Lazzarini a Pesero. Poi si parla del sondaggio che tiene tutto aperto, una valanga di reazioni. Il sondaggio è quello che ha commissionato il Corriere Adriatico alla società Tecne. Un sondaggio, dicevamo, che mostra come i partiti godano, insomma, in queste settimane, con la Lega che è al primo posto, il 32,2%, il PD a ruota sotto con il 23, quindi una bella distanza. Poi il Movimento 5 Stelle è crollato giù al 14,6%. Fratelli d'Italia che invece raddoppia rispetto al 2015, 11,08% e poi al 4% Forza Italia e al 3,6% Italia Viva. E dicevamo delle reazioni tra i social e le chat, dopo questa stima esclusiva di Tecne per il Corriere Adriatico. Piace la proposta di Lucia Annibali, un'idea alternativa a Ceriscioli, così come è alternativa alla candidatura di Longhi e della Mancinelli. Acquaroli invece per quanto riguarda il centrodestra comunque resta in pole position, dunque restano i favoriti a vincere le prossime regionali. Mentre adesso abbiamo solo, ecco, l'ultima pagina per quanto riguarda la politica, queste elezioni, PD da Longhi all'Annibali, la volata per il candidato, no di Giampieri e di Orificini, Gostoli oggi vede tutti gli alleati per la costruzione di una rosa di nomi, frecciate a Ceriscioli, al quale mandano a dire chi crede di correre da solo fa il gioco della destra. L'area del governatore però pensa ad un sondaggio bis dopo quello del Corriere. Chiudiamo la pagina della politica e apriamo quella della cronaca. Muore a 59 anni mentre gioca al bigliardo, Corrado Vagnini in squadra con l'Auser Fanano ha avuto un malore. A Borgo Santa Maria c'era una sala piena per il campionato di Boccette. A un certo punto gli occhi di un centinaio di persone erano fisse su di lui, concentrato sul tavolo verde mentre disputava il primo turno contro la squadra di Borgo Santa Maria. si è accasciato, immediato è stato il primissimo soccorso venuto proprio dalla figlia, diciassettenne, che era seduta tra il pubblico che con slancio e prontezza ha tentato il massaggio cardiaco al padre che era finito, steso a terra. Ma per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare. E adesso le altre pagine. Furiosa lite fuori dalla discoteca. Spunta un coltello che finisce sotto la gola di un giovane che è rimasto ferito. È una scena drammatica dopo una litigata, dopo un alterco che poteva finire davvero nel dramma. La vittima terrorizzata fugge, la polizia adesso cerca l'aggressore. È successo all'uscita di una discoteca nei pressi di Via Togliatti alcuni giorni fa. La vittima dell'aggressione è riuscita a scappare restando comunque ferita e anche l'aggressore ha fatto perdere le proprie tracce e ci sono dei testimoni che però hanno visto tutto quanto. Mentre un 37enne che coltivava cannabis in casa di professione muratore è stato arrestato. Ci ricasca dopo 20 anni. È di nuovo finito nei guai perché questo operaio di 37 anni ha già precedenti dello stesso tipo. Scrive il giornale. Era stato condannato 20 anni fa sempre per fatti legati alla cessione di droga. Ieri mattina è stato processato per direttissima e ha patteggiato a un anno e due mesi di reclusione a 3.000 euro di multa. Mentre un sessantenne è stato soccorso dai carabinieri dal 118 mentre è finito in overdose a casa in strada di Fonte Secco nella zona di Villa Fastigi. I carabinieri sono stati allertati alle 11 del mattino. Un uomo di 60 anni infatti è stato soccorso per aver accusato un malore provocato da una iniezione di eroina. Viabilità. Il sindaco d'accordo con il Movimento 5 Stelle le idee collimano e dunque sì alla loro mozione. È positivo il vertice serale sul progetto per liberare Fano dal traffico. Apertura politica dunque ma i 5 Stelle frenano. Spaccio. Coppia arrestata. La coca era nel terrazzo. Lei ha il reddito di cittadinanza ed è stata messa ai domiciliari. È del 74. Lui invece è in carcere. I carabinieri hanno monitorato i vari movimenti. Oggi l'udienza di Convalida. Entrambi sono conviventi e genitori di un bambino. Mentre sui parcheggi a pagamento nella zona del porto di Fano si convoca un'assemblea pubblica con le attività della zona mare. È la Lega a chiedere alla giunta guidata da Massimo Seri di fare retromarcia su questi parcheggi a pagamento che nella zona mare dovrebbero entrare in funzione dal primo giugno fino al 15 di settembre. Eccolo qua il sindaco del Carnevale insieme al sindaco in carica quello vero ovvero Seri. Seri che però lascia spazio al mago degli effetti speciali Andrea Giomaro e che sarà appunto sindaco per i prossimi giorni fino alla chiusura del Carnevale. Intanto domani c'è il Veglione organizzato dalla Carnevalesca a Villa Picinetti. Villa Picinetti si trasformerà nel giardino dell'Elden con tanto di madre natura eccetera eccetera e quindi domani c'è questo appuntamento con il Veglione. Il sindaco cede la fascia ma solo per Carnevale questo è il titolo del resto del Carlino Seri scherza così succede tutti gli anni ma ci fosse stata una sola volta che me l'abbiano riconsegnata avendo risolto qualche problema e poi una mega festa dei bambini con una parca e tantissimi altri appuntamenti ieri era giovedì grasso e quindi ovviamente c'è stata una c'è stata la festa in piazza 20 settembre e poi Davide che ricostruisce i carri in miniatura sogno dice lui di lavorare con i maestri della cartapesta o soltanto dice otto anni ma una grandissima passione riprodurre le creazioni del Carnevale della Carmes le idee sono chiare da grande farò questo mestiere e parliamo di Davide Bertozzi che costruisce e li disegna anche come vedete in questa piccola fotografia i carri guardate che bello bravo e adesso andiamo sulla pagina del Corriere Adriatico di Fanno la seconda la lega via gli stali al porto e assemblea per la zona del mare subito cavalcata la petizione degli operatori per una diversa distribuzione della sosta a pagamento mentre sull'altra pagina di Fanno del resto del Carlino si parla del digestore anaerobico per il segretario del Partito Democratico Alberto Bacchiocchi il sito migliore dove costruire questo impianto da 30 impianto da decine di tonnellate è Bellocchi Bellocchi di Fanno mi auguro che si vada avanti velocemente verso la realizzazione è stato è pronto l'avviso pubblico da 30 mila euro per l'affidamento dello studio di fattibilità su tre siti che sono oltre a Bellocchi Falcineto e Monteschiantello Aset Spassi è subito attivata dopo l'approvazione nell'ultimo consiglio comunale della mozione in comune approvata da tutta la maggioranza e con la quale l'amministrazione comunale ha mandato all'azienda pubblica di procedere con la verifica del sito migliore tra Bellocchi Falcineto e Monteschiantello su cui costruire questo impianto a questo punto dice il segretario Bacchiocchi mi auguro che si vada avanti velocemente verso la realizzazione del digestore anaerobico se questo non si dovesse verificare politicamente si porrebbe una questione pesante e questo per dire insomma come si stiano accelerando i tempi per battere per battere soprattutto quella società privata che invece vorrebbe realizzare il digestore a Barchi andiamo a Fossombrone invece dove oggi sui giornali sia sul Carlino che sul Corriere trova spazio questo sfogo dei titolari del ristorante Caffè del Corso titolari che hanno deciso di chiudere il negozio e di chiudere questo locale a Fossombrone perché come dicono loro l'attuale amministrazione comunale ha creato ci ha creato dicono tanti problemi e perché lo spiegano molto bene in questo articolo sul giornale e lo spiegano in maniera molto semplice dicono l'amministrazione precedente a questa ci aveva dimezzato la TOSAP per esempio e poi erano abbastanza elastici anche con i permessi questa qui invece questa amministrazione ha riportato hanno riportato la TOSAP a pieno regime il che significa che spendevamo sui 6-700 euro al mese per tenere fuori una pedana di 60 metri quadri mi veniva a costare come un appartamento e poi c'era l'immondizia anche quella incideva tanto sull'esterno più o meno 150 euro al mese ma non è solo questo e poi raccontano il perché appunto si sono trovati così male e hanno deciso quindi di chiudere anche perché era un po' un dialogo tra sordi tra loro e l'amministrazione a Urbino invece la verità sull'ospedale sarà l'eccellenza del Montefeltro l'Ondai indica le criticità ma crede alle assicurazioni del direttore generale più severo il giudizio invece dei suoi alleati nel mirino anche Maurizio Gambini per non aver convocato la conferenza dei sindaci l'Eliana Segre Signora di Fermignano invece approvato all'unanimità anche l'atto deliberativo della cittadinanza onoraria alla senatrice a vita andiamo avanti con la rassegna da Urbino invece questa mattina il resto del Carlino intervista Pier Giorgio Fabri che è stato il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle più produttivo e dice lui ho restituito al Movimento 75 mila euro di stipendio da cittadino porterò avanti ancora le mie battaglie dedicherò più tempo però alla mia famiglia perché perché dice che a un certo punto giustamente sta per finire il mandato quindi non si ricandida e di conseguenza torna a fare quello che faceva prima ho dato massima trasparenza alle mie attività di consigliere attraverso i social e dice adesso riprendo la mia vita torno al mio appagante lavoro come impiegato quadro idrogeologo alla Eni Rewind e potrò dedicarmi con maggiore impegno alla mia famiglia di questa intervista che io ho letto tutte questa mattina di questa intervista mi piace una cosa che vorrei sottolineare perché quando si parla di politici è difficile trovare qualcuno che parli in maniera così dice io ho fatto il mio mandato sono stato per cinque anni in consiglio regionale sono stato molto produttivo perché ho fatto questo questo e racconta tutto ciò che ha fatto questi sono i miei risultati il mio mandato l'ho terminato e adesso torno a fare il mio lavoro ora leggere questo da parte di un politico o di una persona prestata alla politica di un cittadino prestato alla politica è rarissimo e quindi è bello vedere questo modo di fare lo dico perché ci sono invece tanti politici che sono attaccatissimi alla poltrona e che quando gli chiedi di fare un passo indietro e ne abbiamo un esempio senza citare nomi fanno il finimondo e quindi va giustamente riconosciuto a questo a questo politico di aver fatto bene di essersi comportato bene Ristro dottore se ne va anche il Corriere Adriatico questa mattina si sofferma su questa cosa Ristro dottore se ne va per protesta un'ondata di consensi sui social si moltiplica l'hashtag io sto con Davide jacuzzo contro la politica del comune anche qui mancata promozione del centro negli anni ha organizzato tanti eventi ma ora vado altrove dice chiudendo questo locale mentre da Colli al Metauro il sindaco Stefano Guzzi si è emanato un'ordinanza che vieta di bruciare sul luogo di produzione i residui vegetali derivanti da sfalci potature o ripuliture provenienti da attività agricola forestale e di manutenzione del verde la decisione scaturita dal fatto che nei giorni scorsi le temperature sono sopra le medie stagionali e le condizioni meteorologiche hanno favorito lo sviluppo di un vasto incendio in località Monte della Matera di cui vi abbiamo ampiamente parlato l'ordinanza è da ritenersi in vigore fino a nuove precipitazioni i tifosi ospiti siamo invece adesso a Mondolfo sistemati nel Prato l'Osimana dicono disgrazie da rispettare quelli dell'Osimana parliamo di una partita di calcio a Mondolfo domani la prima big della promozione e quindi ci saranno disagi per l'assenza di una tribuna e gli ospiti e i tifosi saranno costretti a guardare la partita insomma stando in piedi attaccati alla rete mentre sistema porta a porta spinto anche a Marotta Nord il sindaco di Mondolfo Barbieri avvise i cittadini del cambio di servizio a partire da maggio l'amministrazione è al lavoro per uniformare il servizio di raccolta differenziata su tutto il territorio comunale quindi dal primo marzo anche il servizio di igiene ambientale della zona di Marotta Nord sarà unificato a quello già esistente nel resto del territorio guidato dal Lati come gestore unico quindi ci saranno dei cambiamenti e ci sono dei numeri di telefono se volete eventualmente delle informazioni ulteriori andiamo a Pesaro cacciata dai 5 stelle ma farò ricorso neanche aperta la mia tesi difensiva l'annuncio via Facebook dell'assessore Franco Ellucci dopo la mail arrivata in tarda serata il sindaco la difende espulsione incomprensibile noi del PD stiamo governando praticamente con loro anziani costretti a comprare ferri da stiro in aula c'è un'ex olgettina come imputata Erika Marcato deve rispondere di estorsione i suoi legali dicono i contratti sottoscritti sono legittimi i racconti in udienza dovevamo firmare dei cataloghi e invece ancora stiamo pagando le rate pensate e poi sempre dalle cronache di Pesaro del Corriere ristoranti hotel operazione decoro eco-isole per la raccolta differenziata albergatori e operatori economici favorevoli per soluzioni meno impattanti nella zona del mare dunque la raccolta differenziata porta a porta integrale nella zona del mare e con queste eco-isole schermate che un pochettino coprano perché nella zona del mare ma questo è un problema che c'è anche a Fano che c'è in tante città anche turistiche qualcuno addirittura li ha dipinti li ha resi un po' più artisticamente belli dal punto di vista visivo ma poco la sostanza resta quella insomma questi bidoni ci sarebbero quelli da fare sottoterra io ne ho visti alcuni belli anche e quindi si vedono soltanto dei tubi che escono fuori ma fatti bene sono molto belli esteticamente ma sottoterra potrebbe essere la soluzione laddove si può fare ovviamente andrebbero praticamente sotto con un modo di raccogliere chiaramente che cambia degli investimenti da fare ma questa potrebbe essere una soluzione l'area di Villa Marina invece è solo cemento ci vuole il motopic o altro che parco l'assessore Belloni attacca chi protesta per l'ipotesi parcheggio ma chi critica l'ha mai vista si domanda l'assessore appunto Belloni poi smog siamo maglia nera e pensiamo ai parcheggi questa è la versione che attacca invece il progetto di Ricci di creare dove c'era Villa Marina questi questi parcheggi per l'articolo 1 occorre disincentivare il traffico nei centri urbani e poi anche magari risistemare il parco degli autobus perché a volte se ne vedono alcuni che sputano fuori del fumo talmente nero che oscurano il cielo questi vecchi autobus che insomma sarebbero da cambiare devo controllare i rifiuti attenzione alle truffe le ruba tutti i gioielli una donna si è presentata a casa di una signora di 80 anni spacciandosi per impiegata comunale un complice prende oro per 5000 euro quindi è successo alle 15 e 30 una signora di 80 anni che abita in via Fabriano nella zona di Tombaccia ha sentito suonare il campanello alla porta c'era questa signora che si è qualificata come dipendente del comune di Pesaro mandata nelle case per verificare la raccolta differenziata dei rifiuti la signora c'è cascata l'ha fatta entrare e poi le hanno rubato tutti poi invece la notizia di un uomo di 75 anni che è salito sul tetto di casa e si è buttato di sotto una tragedia in via Bruscolini una tragedia che si è consumata ieri mattina nella zona di via Belgioioso e ancora da Senigallia i baby vandali individuate hanno le ore contate la polizia vicina all'identità di un gruppo di giovani che ha incendiato un cassonetto in Viale Buonopera e con questo chiudiamo qui la nostra rassegna stampa grazie per averci seguito vi auguro una buona giornata vi ricordo che stasera alle 20 e 30 c'è il telegiornale occhio alla notizia arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti.